Ora io rispetto tutti, però è placida, ma quello è il 24 maggio? No, è un'altra cosa, questa è la seconda, quella era la prima, capito? Il 24 maggio purtroppo è un'altra data. Comunque tu guerri, ma tutti i due erano mongiali. Peccato che tu eri solo alla seconda. Allora, siamo all'appuntamento domenicale con chiaretondo.tv, qualche minuto in più ci viene concesso, visto che è domenica. Io protesto, perché la festa della liberazione dovrebbe essere comunque celebrata in un giorno settimanale e non di domenica. Ma tu la usi come ponte. E mica faccio il dentista. Ma non la testa di ponte, militarmente si diceva la testa di ponte, se è tutta un'altra testa. Testa, va bene, finisce con la ZO. Ricordate, inizia per C e finisce per Azzo. Ricordate, la lingua batte dove il dente duole. La meretrice batte? Dove vuole. Perfetto. È domenica. E vabbè, perché non può lavorare la domenica, scusa. È una festa. Ma le temperature, pioggia. Io capisco che tu sei nuova del mestiere. Ma com'è nuova? Ora, in esagerare. Nel senso del mestiere, il regista. E per testimoniarlo ti tira il pennello, scusa. Cade tutto. Comunque siamo arrivati al momento nel quale potrete andare a cliccare il video che è stato durante la settimana più cliccato. Clicca te, clicca clou, alla fine, no? Si fa il clic clux. Il clic clux. Ci vediamo la prossima settimana, eh. Mi raccomando. Chiaretondo. Domani, domani. È la prossima settimana. Non è la prossima settimana domani. Direttore. Direttore, ma del manicomio. Del CIM. Ciao a tutti.